Tutti in campo con Lotti, Lotti, classe da campione, siamo tutti in campo con Lotti Buon pomeriggio amici del gioco duro, buonasera, buon pomeriggio, buonasera prima che scende il sol Cerchiamo di fare questo video rapido rapido Intanto volevo solo dirvi che ho spostato il mio format amici della dieta Per chi mi seguiva su Instagram, chi mi segue su Instagram lo sa Che vado a mangiare tutti i giorni, vi pubblico quello che mangio ridendo e scherzando L'ho spostato su TikTok, me lo lascio qua in descrizione Chi vuole venire trova il mio TikTok Ristoranti Milano E' l'ultimo che lo mettevo nello zoccolo duro che non c'entrava niente Quindi l'ho fatto a parte e lo farò a parte Così lasciamo lo zoccolo duro Detto questo Tutti contro la gazza Tutti finalmente, finalmente, dopo anni Perché non è che è da oggi Non è che è da questo weekend Ormai sono anni che la Gazzetta dello Sport E' diventato un giornale Palesemente Cioè non è che sembra forse No, palesemente Palesemente a tinte nero-azzurre Come Tutto Sport E' un giornale palesemente a tinte bianco-nere La Gazzetta dello Sport Che ai tempi miei era un giornale Per tutti Per tutti Per le tre top Fondamentalmente più Milano e Inter Fondamentalmente la Gazzetta è sempre stata Un super partes Più dalla parte di Milano E poi venivano comunque la Juventus e le Romane In secondo luogo E' sempre stato così Tanto c'era tutto Sport della Juve C'è il Corriere dello Sport e altri Per Roma, Lazio, Napoli, eccetera E la Gazzetta era così Sono diversi anni ormai Dove il Milano è stato completamente abbandonato E anzi viene tartassato Ogni santissimo giorno Io lo ripeto da tanto Come voi sapete lo ripeto da tanto Perché è una cosa troppo evidente Vedo con grande piacere Che finalmente Anche Youtuber Filosocietari Sia Vitiello Sia Pelle Gatti Sia altri Vedo che finalmente Iniziano a dirlo anche loro E' ora di finirla questa cosa qua O perlomeno palesati Tu ti palesi Dici guarda io sono Un giornale Filo Nero-azzurro E ok Perché io prima pensavo E ve l'ho detto anche in diversi video Fosse una cosa contro Maldini Che Maldini non stesse simpatico Ai media in generale Era risaputo E quindi pensavo fosse un problema Non tanto con il Milan Quanto con Maldini E invece Invece qua continuano 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 Quindi Adesso questa cosa della finanza Finalmente Non avendo trovato nulla Perlomeno Sono contento che è successa Perché ha svegliato Anche i più dormienti E finalmente si palesa Questa cosa qua In maniera che tutti lo dicono E tutti Denunciano questa cosa qua Allora non è che devono Cambiare la linea editoriale Ognuno C'è un direttore Decide lui Cosa fare Cosa non fare Massimo io sono contrario Ai fondi pubblici Per l'informazione Quello si Perché i giornali Si devono automantenere Non i fondi pubblici I nostri Però Questo è tutto un altro discorso Che non so neanche Se c'entra la gazzetta Quindi non ci voglio entrare Scegliessero la linea Editoriale Che Che vogliono Però si palesino Cioè Almeno uno lo sa Almeno uno lo sa Io già lo so Infatti non lo leggo da anni Leggo solo i titoli Perché li mandano Non lo leggo da anni Uno lo sa Non lo legge Se lo vuole legge Solo legge Chi lo vuole legge Solo legge E finisce lì Non è che possiamo stare qua Ogni giorno Con queste robe qua E invito Invito I canali rossoneri Dalle pagine Instagram TikTok Youtube Tutti quelli che parlano di Milan Tutti Li invito A sottolineare sta cosa E non andare dietro a sta cosa Perché se no è peggio Perché se tu prendi Una Notizia Palesemente Viziata Contro il Milan E La riporti La riporti E la centri Sei anche tu colpevole Sei anche tu colpevole Perché già C'è il giornale Che ti tartassa Volontariamente Se tu appoggi Quelle notizie Pensando che sia un giornale Super partes La non va bene Perché poi Qua su Youtube Ognuno Ha la sua reputazione Quindi poi A me mi rimproverano ancora Scusa A me mi rimproverano ancora Di Milinkovic Quando tra l'altro Avevo ragionissima Perché era tutto fatto Come io vi avevo detto E poi L'ha fatta saltare Sappiamo Chi l'ha fatta saltare All'ultimo In ogni caso A me ancora oggi Qualcuno mi dice Ah Come la storia Di Milinkovic Savic Altri ignoranti Parlano di Arnò Mentre io di Arnò Vi ho sempre detto Le cose come stavano Quando avevo portato Proprio della società Di Arnò Che mi aveva detto No Vi ricordate Che prima avevo Delle notizie di sì Poi delle notizie di no Ve lo riportate passo passo Così come adesso Vi sto dicendo di Conte Io rimango Con la mia barra dritta Su Conte A me Non interessa Quello che scrivo Nei giornali Io vi dico Quello che so io Su Antonio Conte Quello che so io È che ci sono contatti E che si sta trattando Poi Arriva Arriva Lo vediamo Su quello Non ho ancora Detto no Non ho ancora detto No è arrivato il buyer C'è il buyer Però non ho ancora detto Vediamo Da quello che so io Non si vuole andare in Germania Però Poi le offerte cambiano Le cose cambiano Quindi mi fa piacere Che finalmente Si sia palesato Questo astio Della gazzetta Verso il Milan Almeno uno lo sa E tutti lo dicono E anche le pagine Dovrebbero dirlo Invece di fare Due clic in più Per far arrabbiare i tifosi Perché ci sono pagine Che per far arrabbiare i tifosi Fanno due clic in più Io almeno mi arrabbio Ma mi arrabbio Con le cose che fanno Non con quelle che forse faranno Che poi non sono neanche vere Io sto il primo a contestare Ma contesto Su cose reali Quando vedo giocare Col 5-0-5 Per esempio Quando vedo fare Ricambi a calcio Quando vengo Quando vengo Che si parla Per due mesi Di Zirze E adesso Tutti vogliono Djokovic Adesso Cioè come Se a partita Zirze Adesso vogliono Tutti Djokovic Voglio vederlo Cosa fa Questo qua Fuori da Fuori dal Portogallo Cosa ha fatto Il nazionale Cosa ha fatto Cosa ha fatto A Svezia il nazionale Mi pare Per cinque schiaffoni Dal Portogallo Non so C'era Djokovic Come ha giocato Non so Non l'ho visto Chiedo a voi Che sapete Sicuramente Più di me Come ha giocato Fatemi sapere Mandatemi una mail E fatemi sapere Qua Ragazzi miei Niente Ma se ne è finita così Stavamo andando un video Sulla Gazza Su Djokovic Ne abbiamo già parlato Quindi domani Andiamo avanti Con altri discorsi Che qua è già calata la notte Calata la notte Iscrivetevi al canale Vi ricordo E ringrazio Chi mi manda le donazioni Su Paypal Che lì si può scambiare Un po' di messaggi E' un po' Dura starvi dietro Però mi arriva la notifica Subito Quindi vi rispondo subito E vi ringrazio E ci vediamo domani Va bene? Ciao belli Ciao ciao